La passione per il Verona È una famiglia che tiffa Ellas da generazione e da sempre ormai Non vedo l'ora di incontrare Luca Toni, è un grande idolo ormai da anni, anni che Quando vedo Ellas Verona mi piace Non è un evento a cui partecipo ogni giorno, quindi sono molto molto contento La passione c'è sempre, da lontano 1970 Abbiamo avuto la possibilità di fare questa cosa anche per beneficenza Mi è piaciuto particolarmente partecipare perché mia nonna era di Carpi Quindi riuscire a dare una mano anche a quel territorio che è stato devastato dal terremoto è stato importante Verona che a volte viene un po' bistrattata ma che invece sotto sotto aiuta tanto Siamo molto emozionati e anche felici di partecipare a questa festa Grazie a tutti